Benvenuti a un nuovo video su Podcast Italiano e siamo di nuovo in compagnia di Elissa. Ciao! Che ormai conoscete, credo che non ci sia bisogno di presentarla ogni volta, è tipo il quarto o quinto video che facciamo insieme. Sì, più o meno. E se avete ascoltato attentamente, Elissa parla molto bene l'italiano. Grazie. Ma prima di proseguire, se vi interessa la trascrizione di questo video e di tutti i miei video, qualcosa tipo questo, potete entrare a far parte del Podcast Italiano Club, costa solamente 3 dollari al mese e per 6 dollari avete anche un podcast esclusivo e ad ogni livello avete tanti altri contenuti che trovate solo sul club. Oggi volevamo parlare di come... come diventare fluenti, che poi è una parola che non so... Che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire essere fluente? Che cosa vuol dire essere avanzato? Cioè avere un livello avanzato in una lingua? Innanzitutto, io ti definirei come una parlante fluente in italiano. Anch'io penso, nel senso che mi sento a mio agio, non penso in inglese, penso in italiano. Quando hai iniziato a sentirti così? Allora, fluente magari anche prima di venire in Italia. Non vuol dire che sei perfetto, però vuol dire che riesci a parlare senza troppi problemi, che riesci ad esprimerti, l'accento è abbastanza... la pronuncia è abbastanza precisa, diciamo. Sicuramente l'accento aiuta tantissimo, quindi se hai un buon accento sicuramente aiuta. Però comunque dipende dalla persona, perché ogni persona è diversa, ogni persona ha un... un mix, diciamo, di... strengths? Punti di forza? Punti di forza, nel senso, secondo me la mia punta di forza è la pronuncia, però magari il vocabolario lo potrei anche migliorare. Però la cosa interessante è che tutti ti considererebbero fluente, no? E tra l'altro prima abbiamo avuto un episodio divertente, stavo mangiando a un ristorante e il cameriere sentendoci parlare un po' in italiano e un po' in inglese ha fatto i complimenti a te dicendoti che... Wow, il tuo inglese è molto buono! Pensando che io fossi americano e che tu fossi italiana e dicendoti il tuo inglese è molto buono Elisa, cioè non Elisa, non sapeva il tuo nome. Sì, però no, era molto divertente perché vuol dire che è possibile raggiungere un livello molto alto, anche perché tu non hai mai vissuto negli Stati Uniti e comunque è un accento molto buono in inglese. Una cosa che un po' mi dà fastidio, un po' mi rende triste è che quando le persone, magari i miei studenti, le persone che mi guardano sul canale dicono Oh, ma io voglio parlare come te, ma non ce la farò mai. Perché no? Perché non ce la puoi fare? Secondo te per essere fluente la pronuncia è importante? Molto importante! Perché di solito cosa succede? La gente dice, vabbè, la grammatica è importante, il vocabolario è importante, però tutti si dimenticano della pronuncia. E secondo me è una cosa sbagliata perché una lingua è cosa, sono tre cose, sono la grammatica, il vocabolario e la pronuncia o l'accento. Se tu ti dimentichi di una parte di una lingua, non è una cosa completa, non è... capisci? Sì, anche perché, cioè, se consideriamo fluency, fluenza o fluidità, non so come tradurre questo termine, parlare in maniera veloce, spigliata, senza fare troppe pause, ecco, io penso che la pronuncia aiuti, no? Non incartarsi nella pronuncia di alcuni suoni, non bloccarsi su alcuni suoni difficili. Perché secondo me sei fluente quando la persona che ti ascolta non deve concentrarsi tantissimo e faticarsi a capirti, quello è il problema. Quindi di solito quando la pronuncia è buona ti devi concentrare un po' di meno. Per esempio, c'era l'esempio dell'altro cameriere, per esempio, che era straniero e quindi un pochettino... dato che anche l'Italia non è la mia lingua madre, quindi un pochettino ho dovuto concentrarmi un po' di più per capire esattamente cosa diceva. Quindi secondo me essere fluente è quando anche l'altra persona può capirti senza stupi problemi. La maggior parte delle persone non ha una pronuncia troppo forte. Il cameriere di prima aveva una pronuncia molto forte e quindi dovevi fare molta attenzione a capire quello che diceva e dopo, non so, mi immagino due ore così di conversazione diventa difficile. Anche perché era una cosa importante. Io stavo chiedendo, c'è la pasta senza glutine? Che io se sto male col glutine non sono celiaca, però comunque mi fa stare un po' male. Quindi ovviamente se è una cosa importante, come star male col cibo, per esempio, non è il massimo. Ti faccio un'altra domanda. Secondo te sapere tante parole è importante per essere... o è una condizione necessaria per essere fluenti, fluidi, parlare correntemente una lingua? Oppure no? No, nel senso... Nel senso, sapere mille modi di dire la stessa cosa non è la cosa più utile al mondo. Secondo me, quello che ho fatto io, io ho cercato di riuscire a dire tutto quello che voglio dire in un modo e dirlo bene. Ok. E così è per quello che magari non ti rendi conto perché io uso la costruzione che funziona per me, la costruzione che mi viene più naturale, che è comunque corretta. Però magari quando parla Giulia, per esempio, lei usa delle costruzioni un po' diverse, per esempio, rispetto a me, usa parole un po' diverse. Però io non devo usare le parole che usa lei per essere brava, capisci? Certo. Depende alla persona, nel senso, io, diciamo, secondo me sono un po' più brava nella pronuncia perché è una cosa che mi piace tantissimo, è una cosa che mi piace e basta. Ti interessa di più. Però magari non ti metti a memorizzare parole su Anki, non ti metti a fare... Magari, allora, se c'è una parola molto importante, per me lo sentirò diverse volte e lo memorizzerò prima o poi. Tu hai un livello, come dicevamo prima, funzionale, no? Tu riesci a fare tutto quello che ti serve nella tua vita, tu vivi in Italia, non hai alcun problema e sai le parole che ti servono, non ti interessa magari accumulare parole per sembrare più erudita, diciamo, capisci tutto quello che senti. Anche perché non sento il bisogno, anche perché la gente mi dice sempre che sono brave, che non si sente l'accento, che sembro italiana, quindi se io sembro italiana perché devo sforzarmi a imparare parole che magari non mi servono neanche? Perché secondo me se c'è una parola che mi serve, lo sentirò o avrò bisogno di usarlo, quindi a quel punto lo controllerò e basta. Per esempio tu non leggi romanzi, non leggi... Non l'ho mai fatto, in italiano, sì. Quindi... Lo potrei anche fare, però... Ecco, io tempo fa ho fatto un video un po' provocatorio che era... si chiamava Pensi di essere avanzato, di avere un livello avanzato in italiano? Dove praticamente leggevo un... un estratto di un romanzo e mostravo che leggere un romanzo è una cosa molto difficile perché ci sono sempre tante parole difficili da capire. Sì. Però era un titolo un po' provocatorio, in realtà la mia posizione sul essere fluenti, essere avanzati è che in realtà è una cosa che dovete determinare voi che imparate l'italiano, che imparate altre lingue. Quali sono i vostri obiettivi? Dove volete arrivare in una lingua? C'è gente che vuole avere un livello intermedio, B2, c'è chi vuole leggere i romanzi o magari anche i romanzi del passato. Così come ci sono persone che vogliono scrivere molto bene, che vogliono parlare di argomenti molto tecnici. Tu, quando hai iniziato, sapevi dove volevi arrivare con l'italiano? Allora, quando hai iniziato io non... io non pensavo neanche di essere capace di essere bilingue. Nel senso, io ho detto, ah beh, proverò, questa è l'ultima opportunità per imparare una lingua che non era vero. Però comunque pensavo in quel modo, io ho detto, ah beh, faccio quello che riesco a fare. Tanto ho iniziato l'università, quindi ho detto, vado fino alla fine, vediamo dove mi porti. Non ci ho pensato tantissimo, anche perché non l'ho fatto da sola. Ho seguito un corso e non ero ancora più brava all'inizio. Nel senso, ero brava, avevo sempre tipo, ehi, in quei corsi. Però comunque non è difficile se fai tutti i compiti e questa cosa qui. Per avere un buon voto non vuol dire saper, non vuol dire niente. Non vuol dire nulla, perché non parlavamo mai. Esatto, è quello il problema della scuola. Sì, non è che ero all'inizio super brava, nel senso, ero brava, sì, ok, va bene, però non eccezionale, diciamo. Poi col tempo l'altra gente era un po' meno interessata nell'italiano, io ero quella che era più appassionata. Quindi io sono andata avanti, ho continuato con l'italiano e adesso sicuramente... Non so se le altre persone parlano ancora l'italiano, però sicuramente non lo parlano... Non lo sanno bene quanto te, sicuramente. Beh, allora, per il primo corso, primo anno, eravamo in duecento, penso alla fine sette, alla fine del terzo anno. Quindi non è che eravamo in tanti. Secondo te per diventare fluenti, per avere un livello avanzato, bisogna andare a vivere nel paese? No, perché io secondo me ero già avanzata anche prima di vivere in Italia, però la cosa più importante al mondo è avere una persona con cui puoi parlare in quella lingua. Anche prima di venire a vivere in Italia, ho vissuto per un anno in Australia con il mio ragazzo e lui mi ha aiutato tantissimo a migliorare, che già a quel punto avevo fatto già il corso avanzato, però sono andata in Australia e vivevo con lui, quindi parlavamo tanto in italiano. Quindi l'importante non è vivere in quel posto, anche perché io lavoro da casa, io quanto uso l'italiano nella vita reale? Lo uso, magari questa settimana lo sto usando molto di più, non parlo in italiano così tanto, nel senso che con il mio ragazzo lui mi parla sempre in italiano, io rispondo molto spesso in inglese e comunque sì, alla scuola di musica una volta a settimana, sì, vabbè, parlo un pochettino, però sto cantando, non è che sto parlando tantissimo. Quindi sì, se lavori in Italia ti mettono in una situazione in cui devi usare l'italiano per forza, però, però è anche molto facile vivere in un altro posto, non uscire mai, non incontrare nessuno, non usare mai la lingua, perché tanto è più o meno quello che faccio io, quindi... Sì, non è che è stare in un posto, nell'aria del paese che ti fa imparare una lingua, comunque sono gli scambi, sono le comunicazioni, la lingua è comunicazione e alla fine uno può comunicare anche online. Quanto pensi che tu sia migliorata da quando sei in Italia? Allora, faccio un po' meno errori, la pronuncia, diciamo, un po' più precisa, nel senso che magari ho preso un po' di più l'accento che c'è a Fano, mi sto avvicinando piano piano, faccio meno errori stupidi, tipo qualche anno fa, per esempio, avevo detto qualche anno fa, ho detto il carne, che il mio ragazzo non mi farà mai dimenticare di questa cosa. Oh, sai cosa ti ho detto? La panda, invece di il panda. La panda è la macchina. Sì, esatto, cose così, però comunque succede un po' di meno, ma... L'obiettivo non è diventare uguali a dei madrelingua, che è praticamente impossibile, quindi non ha senso neanche porsi questo obiettivo. L'obiettivo, come abbiamo detto, è quello che volete voi, lo dovete determinare voi. Sì, e non paragonarvi, per favore, le persone che considerate più bravi, tipo tante persone con te, magari sei molto bravo con l'inglese o con me, che sono bravi in italiano, lo puoi fare in modo positivo, per dire, per esempio, mi piacerebbe, sarebbe bello riuscire a parlare l'inglese come Davide, ok, va bene, però senza troppa pressione, senza sentirsi in colpa, senza sentirsi stupidi, capisci? Perché le lingue, non lo so, è una cosa molto divertente, è una cosa molto bella e non deve essere una cosa stressante, stressante, negativa, non deve diventare un peso, sì. Sì, esatto. Bene, penso che abbiamo detto tante cose interessanti e giuste. Allora, grazie per la tua partecipazione, come sempre. Grazie a te. E niente, faremo un video anche sul tuo canale, non so ancora su cosa, non abbiamo deciso. No, l'abbiamo detto, è solo che mi sono dimenticata momentaneamente. Bene, metterò al video il link da ovunque. Lasciate un bel mi piace, ragazzi. Esatto. E iscrivetevi, mettete la campanella. Molto importante. Alla prossima. Ciao. E voi, che cosa ne pensate? Fatemi sapere nei commenti. Io, per esempio, ho un'opinione un po' diversa da quella di Elissa riguardo alle parole. Penso che sia utile conoscere tante parole e che avere un vocabolario ampio ti permetta di bloccarti di meno perché hai parole più precise per esprimere le tue idee. E inoltre, pensate che la pronuncia sia un aspetto importante della fluenza o la conoscenza della grammatica, sia importante per essere fluenti, oppure la fluenza sia semplicemente la velocità con la quale ci esprimiamo. Fatemi sapere che cosa ne pensate e fatemi anche sapere quali sono i vostri obiettivi nell'imparare l'italiano o nell'imparare la lingua che state imparando. Vi ricordo che sul club troverete tanti contenuti bonus, come un podcast esclusivo a livello d'argento e tanti altri contenuti e rubriche che inizio più o meno ogni giorno analisi di canzoni, episodi esclusivi con la trascrizione, video esclusivi. Avete anche accesso a dirette esclusive, quindi davvero tante cose. Ringrazio tutti i membri del club, ringrazio voi per aver visto questo video e ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao! 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 Grazie a tutti